Diciamo che in un momento difficile come stiamo attraversando a livello nazionale, questa mattina è un momento di gioia. Assolutamente, guardi, è un momento in cui si afferma la legalità ed è stata un'azione di sinergia e di una collaborazione interistituzionale fra le amministrazioni comunali e lo Stato, perché lo Stato è intervenuto a supporto dell'azione amministrativa per la forza pubblica e la questione della demolizione delle casette della Finiglia è stata analizzata in vari comitati nell'ambito di questi tre anni e ha supportato la forza pubblica, l'azione dell'amministrazione che ha consentito oggi di poter restituire quest'area naturale, questo parco meraviglioso, questo tombolo della Finiglia ai cittadini, ai tanti turisti che vengono qui d'estate ad ammirare questi paesaggi meravigliosi. Questo è un segnale importante, quello che oggi noi viviamo e qui in questo momento proprio di un ripristino dei luoghi originari, quindi una fermazione della legalità grazie anche a tutta l'opera delle forze dell'ordine e tutti i comitati che abbiamo fatto per cercare di supportare l'amministrazione comunale, ma anche l'altra amministrazione comunale, perché le amministrazioni sono due, l'amministrazione di Orbetello e l'amministrazione di Monte Argentario, quindi entrambe le amministrazioni, tutti quanti tendevamo all'unico obiettivo, l'obiettivo è sempre quello della legalità. Un momento importante per il sindaco di Orbetello è trovarsi la Finiglia così, cioè restituita alle meraviglie di questo territorio e soprattutto alla popolazione. Sì, oggi è davvero una bellissima giornata, la Finiglia che viene restituita in questo tratto è completamente risanato dopo decenni, un percorso iniziato molti anni fa con l'allora sindaco Matteoli e il sindaco Cerulli, un obiettivo raggiunto grazie anche alla capabilità del sindaco del comune di Monte Argentario che ha portato avanti con forza questo procedimento e oggi dopo tanto tempo, dopo tanti ricorsi e tante osservazioni ci è restituita un tratto veramente risanato che sicuramente non si riconosce al primo colpo d'occhio. Tra l'altro sono 8 mila metri quadri, ricordiamolo, e c'erano 58 unità immobiliari che voi avete dismesso. Sì, tantissime unità immobiliari, considerato che oggi, anche qual è la procedura dei ricorsi, è stata una cosa particolarmente complicata e complessa, anche difficile da portare a termine. Di questo io ringrazio il comune di Monte Argentario perché il comune di Monte Argentario è il comune che ha portato avanti la procedura su un tratto di proprietà del comune di Orbetello e quindi un risultato credo ottimo e fondamentale per un tratto importante come quello della Finiglia che viene frequentato non solo dai residenti del comune di Orbetello ma da moltissimi forestieri che d'estate affollano la nostra zona. Quindi quest'estate troveranno una zona totalmente risanata in questa parte e di questo siamo estremamente felici perché ce n'era sicuramente bisogno. In questo momento avete supportato il lavoro di un'esamble di individui che fanno parte dell'istituzione. L'attenzione che viene posta dalla Procura di Grosseto in ragione di quella che è la delicatezza, la bellezza del nostro territorio è tale che ben vengano azioni sinergiche quando si trova ad affrontare temi di questo tipo, assolutamente, proprio perché vanno nella direzione come si diceva prima di affermazione piena della legalità, vince lo Stato, vince lo Stato attraverso tutte quelle che sono le sue componenti. La Procura è attenta a questo fenomeno, anni fa costituì il nucleo di polizia municipale anche per supportare questa attività e quindi c'è anche al termine di un certo percorso, come dicevo prima, che deve essere solo iniziale di quello che è davvero un fenomeno non solo di mal costume ma di piena illegalità, quello degli abusi edilizi, quella di avere anche la soddisfazione che un primo passo è stato fatto e che magari in tempi ragionevamente brevi ne possano arrivare altri. Questi signori con queste unità immobiliari avevano in franto delle regole, la burocrazia poi fa scivolare nel tempo? È vero, purtroppo è vero, nella piena affermazione del diritto ci mancherebbe altro, tutti i gradi di giudizio e tutte le azioni che possono essere promosse da ricorsi al TARA, al Consiglio di Stato? Assolutamente, assolutamente, il diritto deve garantire tutti, è vero però che in qualche caso quel diritto è strumentale a tenere in piedi una cosa che per sua natura non poteva rimanere in piedi, diciamo così, mi limito a dire questo, insomma, voglio di pochi che conosce un po' i fatti capisce benissimo a cosa mi sto riferendo. Per colui che ha coordinato e poi realizzato questo progetto è stato difficile poter parlare con queste persone, ma poi si è parlato oppure siamo arrivati in alcuni casi anche agli scontri? Io scontrare non mi scontro mai con nessuno, questo è per principio generale, sono un funzionario di questo comune e porto avanti i progetti che questa amministrazione realizza, ovviamente più che uno scontro diciamo che vi sono state delle iniziative giudiziarie fatte nei miei confronti da questi signori che stavano là, ovviamente conclutasi con un nulla di fatto, per un motivo semplice, perché la legalità era dalla nostra parte, non era dalla loro e quindi il risultato finale è stato che lì è tutto demolito, come doveva essere, e riconsegnato la legalità di questo territorio e di questo paese. Ma è così difficile la legalità in questo paese? Non è un problema di legalità, il problema è difficile a demolire, perché le guarantigie sono tali e le tutele sono tali che spesso e volentieri il cittadino non rispettoso, chiamiamolo così, delle leggi, ha la prevalenza rispetto a chi rispetta le leggi. In casi come questi, dove c'era così tante unità immobiliari, nelle condizioni in cui queste unità immobiliari si trovavano, ricordiamoci, il tetto era un cemento amianto, insomma l'Ethernet non fa benissimo, abbiamo visto un processo di dieci anni, vi erano degli scarichi a perdizione in una zona a altissimo pregio ambientale, addirittura vincolata con tre dei reti ministeriali, quindi si trattava di una zona un po' particolare, è ovvio che fa scalpore quando un ente demolisce, un ente demolisce quando c'è tre cose, la volontà politica di farlo, in questo caso c'era, le risorse economiche per farlo e soprattutto ci vuole poi il coraggio dei funzionari, perché altrimenti il funzionario che si trova minacciato, si trova esposti, si trova a dover pagare delle multe per proprio conto, molte che magari non erano nemmeno tante legittime, cioè lei capisce che diventa difficile che un funzionario faccia questa roba, poi ci sono alcuni funzionari che queste cose le fanno, perché forse hanno l'interità, il coraggio di farle queste cose, come ce ne sono tanti altri, ci sono tanti servitori dello Stato nel nostro paese, io mi onoro di essere fra questi. Finanziamenti che il Comune di Monte Argentario ha avuto bisogno di esercitare così, e poi verranno restituiti? No, per parte ce l'hanno già restituiti, il Comune d'Orbetello il protocollo di intesa prevedeva che noi bonificassimo l'area, l'abbiamo fatto, e loro avrebbero rimborsato le somme di volta a volta necessarie all'amministrazione a seguito di quelli che erano certificati di collaudo delle opere effettuate. questo si è verificato ritualmente e due tranche di pagamenti il Comune d'Orbetello ce l'ha già fatto, una terza tranche l'abbiamo chiesta per l'appunto pochi giorni fa, che è l'ultima e niente, quindi con questo riusciamo, cioè il Comune di Monte Argentario a parte il lavoro del personale, il lavoro ce n'è stato, perché la pensi 70 ricorsi al Tar, gestiti dall'ufficio legale, oltre 100 fra determinazioni e deliberazioni, mandati di pagamento, relazioni richieste continuamente da vari organi dello Stato, lei capisce che insomma il lavoro ce n'è stato tanto. C'è voluta la volontà del Comune di Monte Argentario per riuscire in questa impresa, ma soprattutto c'è stato il braccio che ha poi permesso di riuscire in questa impresa. Sì, indubbiamente è stata un'attività e un'azione molto complessa, perché è stata un'attività che si è prorogata negli anni, perlomeno in tre anni, ci sono state molte vicissitudini anche dal punto di vista legale e giuridico e anche dal punto di vista operativo per gli interventi, però l'obiettivo e la determinazione erano fortissime, perché si trattava di recuperare appunto alla disponibilità pubblica e alla gestione anche delle amministrazioni un territorio estremamente qualificato, la Duna Feniglia, che andava anche tutelata dal punto di vista degli aspetti igienico-sanitari, perché parliamo di un territorio dove d'estate gravitano migliaia e migliaia di persone, quindi con migliaia di mezzi in movimento, con persone di tutte le età e di tutte le tipologie. Quindi recuperare quel territorio e sanarlo dal punto di vista anche ambientale era importantissimo. Sono state eliminate infatti coperture in amianto, che erano quindi pericolose per la salute pubblica. Sono state dismesse decine di abitazioni, 66 per la precisione abitazioni, con scarichi fognari a perdita, quindi in una spiaggia inserita in un'oasi protetta, di bellezza universalmente riconosciuta e quindi è stato un obiettivo molto importante per il nostro territorio. Si è dato spazio a una situazione di illegalità ormai permanente? Sì, diciamo che è stato riportato nei canoni della legalità una situazione complicata, perché è complicata, perché è nata in una forma giuridica, diciamo normale, per il momento in cui è nata, perché sono stati degli orti dati in gestione ai privati da parte del proprietario, che però era un altro ente, il Comune di Orbetello. Quindi da parte delle persone non c'era neanche la cognizione e la percezione di fare un'illegalità, perché dicevano ma come, noi li abbiamo avuti con tanto di contratto, di atto scritto, però poi il problema è che nel tempo l'utilizzo del territorio era debordato, perché dall'orto alla casetta, al capanno per gli attrezzi eravamo passati alla villetta. Però ecco, gestire tutta questa operazione riportando nella legalità e nella correttezza della gestione del territorio è stato un obiettivo bello e importante che ha colto il Comune di Montargentario insieme al Comune di Orbetello. Per me l'ambiente è una cosa primaria che va difesa in tutte le maniere, quindi si torna la legalità e comunque fa bene anche all'ambiente. Sì, poi tra l'altro potrebbe essere anche un segnale indicativo per altre zone lì vicino alla Feniglia che avrebbero bisogno. Purtroppo negli anni si è consolidata questa idea di costruire vicino a posti bellissimi, tornare indietro è difficile, noi ci stiamo provando, logicamente ci vorrà del tempo, piano piano andremo anche su altre zone, però diciamo che ormai il danno purtroppo negli anni è stato fatto e forse qualcuno si doveva accorgere prima di cosa stavano facendo. Una giornata particolarmente importante per il Monte Argentario, si è conclusa l'operazione della dismissione di queste 58, alcuni dicono 66 unità immobiliari che erano nella Feniglia e soprattutto è stata restituita una visione molto bella di uno dei posti più belli del mondo. Svegliamo sul corso 58 e 66, è lo stesso numero, 66 sono le case demolite, 58 sono quelle demolite da noi, ossia noi abbiamo demolite 58 e altre 8 i proprietari, quelli che gli usufluttuari hanno demolito per conto proprio, quindi in sostanza in totale sono state demolite 66 unità, ma in realtà noi come comune soltanto 58, ad un costo medio di quasi 10 mila euro a casetta e quindi alla fine l'operazione è costata e noi ovviamente ribaltiamo sul comune di Orbetello perché il proprietario dell'area è il comune di Orbetello. Un'operazione difficile, anche un po' coraggiosa che abbiamo fatto e di cui devo ringraziare anche tutti quelli che hanno collaborato, insomma al di là della volontà politica poi c'è stata un'attenzione particolare da parte dello Stato, della Prefettura, delle Forze dell'Ordine, anche della Procura perché insomma noi su questi atti abbiamo ricevuto una marea di denunce di questi titolari di possesso che assolutamente non hanno mollato un centimetro quasi tutti e quindi secondo loro stanno facendo degli atti illegittimi e quindi ci denunciavano anche per questa cosa. Un'operazione difficile, un'operazione che nasce da lontano perché nasce da un protocollo d'intesa con il comune di Orbetello di sette anni fa e dove appunto noi prendemmo questo impegno, impegno che molti pensavano che non avremmo raggiunto, insomma all'inizio ci hanno un po' snobbato pensando che sì che era soltanto un fuoco di paglia ma poi ci saremmo fermati subito, invece non ci siamo fermati, sono tanti anni però oggi quell'area è restituita alla sua naturalezza di Duna, Duna era e Duna è ritornata ad essere. Ora noi con l'atto di oggi abbiamo semplicemente riconsegnato al comune di Orbetello un'area pulita, non è che abbiamo finito la nostra opera di regolarizzazione, cioè perché da demolire c'è ancora molto e poi insomma non è che noi siamo qua soltanto per demolire, noi siamo per amministrare, però amministrare nella legalità è importante perché dà anche un messaggio a chi magari avesse voglia di rifare certe cose che non è proprio il caso, quindi è un messaggio importante, l'abbiamo voluto dare insieme alle forze dell'ordine proprio per significare diciamo attenzione da parte nostra e quindi chiedere attenzione anche da parte di quelli che magari malintenzionati che proprio non è il caso. dall'argentale, posso andare da un'altra parte ma qui trovo duro. Ma voi e tra voi il comune di Orbetello, cioè praticamente la Feniglia non potreste fare un discorso comune visto che 10 cm sono per una parte, 10 per altri? Sì, è una stranezza dovuta, non so, quando fecero questa divisione del territorio come fu fatta, ma insomma qualcosa che fu fatta prima che nascessi io, insomma, non solo come sindaco, ma come persona, quindi una cosa vecchia. Questo terreno si trova fisicamente nel comune di Monte Argentario ma la proprietà è del comune di Orbetello e non è l'unica cosa che abbiamo all'interno del nostro territorio che appartiene al comune di Orbetello e nella Feniglia c'è un po' di confusione in effetti. Quindi quella zona è di Orbetello come proprietà ma è nostra come gestione, quindi è una particella del nostro territorio, quindi vale il regolamento del comune di Monte Argentario. Ora Orbetello torna in possesso di quest'area, di questo pezzo di spiaggia e diciamo dove non ci si può fare niente, quindi starà loro eventualmente farci delle proposte se vogliono farci qualche cosa, ma è chiaro che da parte nostra noi possiamo concedere soltanto che si possano fare opere, a parte opere pubbliche ma anche opere utili alla socialità, ma certamente non ci faremo né alberghi né case perché durante le nostre opere di demolizione qualcuno aveva parlato insistentemente che dietro questa operazione c'era chissà quale altro investimento immobiliare, assolutamente niente, d'una era e d'una è ritornata. Un vostro protocollo d'intesa di qualche tempo fa che dice che vi metterete al tavolo e parlerete anche di questi confini, di queste cose, credo. Sì, è un'altra cosa da fare, c'è sempre un sacco di cose da fare, c'è tante cose da fare che uno programma, poi sono quelle che invece vengono alla giornata e il sindaco e l'amministrazione devono risolvere tutte e due le problematiche. Certamente quella di rivedere i confini, di migliorare i confini è un'operazione che dovrebbe essere fatta quanto prima, magari doveva essere fatta già qualche decennio fa e se troviamo l'occasione certamente ci sono le condizioni a oggi anche per questa vicinanza diciamo così politica fra i due territori per potersi mettere a sedere a un tavolo serenamente e decidere questa cosa. Visto quello che ha fatto il sindaco di Monte Argentario, probabilmente quando vi siderete al tavolo ci sarà qualcuno che ha qualche cassetta nella feniglia, qualche capanna nella feniglia che si preoccuperà. Beh certo, ormai cominciano a crederci che facciamo sul serio.